Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Pokémon Unite, anzi benvenuti in questo nuovo gioco che molto probabilmente molti di voi non conoscono perché effettivamente non è ancora uscito sul mercato, ma che fra veramente pochissimo tempo uscirà su tutti i dispositivi a luglio per Switch e vedremo quando per tutti i dispositivi mobile. Spostiamoci però su Twitter per andare a vedere tutte le novità nel dettaglio con anche siti internet che vi andrò a trattare. Ed eccoci qua, nell'account ufficiale di Pokémon Unite. Pokémon Unite, ragazzi, è un gioco che sarà lanciato per la prima volta a luglio, quindi questo mese, sulla Nintendo Switch e sarà lanciato, come avete appena letto dalla Bio, mobile launch in settembre 2021. Quindi a settembre lo avremo anche nel mobile, è un gioco che si preannuncia, un bel gioco, un gran bel gioco. Per farvela breve è un misto tra un League of Legends, quindi un MOBA, e Pokémon, con i personaggi Pokémon. Vi farò vedere anche dei gameplay che come vedete è veramente, veramente ricco. La prima cosa che vi faccio vedere è il primo post. Questo è il primo post di Pokémon Unite, che è stato creato una volta che è stato annunciato il gioco per la Nintendo Switch. Ed è questo, ossia Unite with new partners. Questo qua è il primo post. Il secondo post è una gift che hanno messo. E forse la cosa meglio è questo post qua, ossia la Aeos Island, che sarà l'isola dove si combatteranno le varie partite. Ci saranno le Aeos Energy, che sono delle energie che si trovano in particolare soltanto in questa Aeos Island. E sono delle energie che servono appunto per fare utilizzare determinati Pokémon, per farli evolvere. Insomma, un gioco, ragazzi, che si preannuncia veramente, veramente bello. Questi saranno i trainers che faranno parte del gioco. Abbiamo Mia, Noa, Yala, Jin da una parte, contro Arius, Sophie, Liam, Elliot, Ulyana dall'altra parte. Questo è Pikachu, è il primo gameplay che è stato mostrato il 21 giugno. Il gameplay di Pikachu, che come vedete ha questa scarica elettrica che va a colpire i nemici. Ci tengo a ricordare che il game footage non è quello finale, quindi non sarà esattamente come vedremo in gioco. È semplicemente, diciamo, a scopo dimostrativo. L'altro invece è Charizard. Charizard è uno dei Pokémon più famosi all'interno del set ed è veramente forte. Considerato uno dei Pokémon più forti, come vedete qua, al fuoco che va a colpire i nemici. E anche questo attacco strano che va a sbattere la testa contro il nemico, che esattamente non so come si chiama. L'ulti invece è questa qua, con la coda che lancia questa pallina qua. Però, prima di concentrarci più dettagliatamente sui veri e propri Pokémon, ci tengo a farvi capire come funziona il gioco. Questo è una 4 vs 4 map che sarà presente all'interno del gioco, quindi ha un numero limitato di zone. E si chiama Mare Stadium. Sostanzialmente funziona la League of Legends, quindi tutti i componenti di una squadra partono da una parte e tutti gli altri compaiono dall'altra parte della map. Esattamente due arene opposte. Ad un certo punto si arriva a metà campo e l'obiettivo è quello di conquistare le varie basi dei nemici fino ad arrivare alla base più grande, che è quella che si trova in fondo. Una volta che si conquista quella, uno ha vinto la partita. Tra le altre varie personaggi abbiamo Cruster, che è questo granchio qua che penso che voi tutti conosciate. Abbiamo Talonflame, questo personaggio qua che salta in aria ed è un piccione sostanzialmente rosso. Abbiamo Lucario, abbiamo Venusaur, insomma abbiamo quasi tutti i Pokémon che penso che tutti voi conosciate all'interno del gioco. E vi farò vedere però il gameplay di Pokémon Unite. Cerco di farvi vedere il gameplay, metto il muto perché non ci tengo a farvi sentire l'audio, sono molto sincero su questa cosa. E ve lo cerco di far capire. All'inizio del gameplay abbiamo appunto questo a scopo dimostrativo, naturalmente ragazzi non funzionerà così, sono delle animazioni 3D fatte apposta per invogliare il fan a vedere. Questa qua è la mappa, la mappa che appunto vi stavo dicendo, che si suddivide in due parti. Da una parte abbiamo i nostri compagni, dall'altra gli altri, team è viola e team arancione. Una cosa importante ragazzi che ci tengo a farvi capire è che le partite saranno svolte in massimo 10 minuti. Quindi non è come League of Legends dove le partite durano molto di più. All'interno poi si può capire come funziona il funzionamento del gioco. Vengono lanciate delle Pokéball, vengono lanciate delle cose ragazzi che penso tutti voi conoscete, tutti quelli che conoscono il mondo Pokémon conoscono. Quindi non ve le sto neanche qua a ripetere. E sostanzialmente poi qua non c'è più niente da vedere perché poi tutto quello che continua dopo sono cose che adesso non ci interessano. Forse da vedere ancora meglio, se andiamo su Twitter, adesso vi faccio vedere. Andiamo su Pokémon Unite sempre. Cerchiamo Unite ed eccolo qua. Adesso ci dovrebbe venire fuori, Superzone, in teoria, eccolo qua. Prepare to Unite. Questa è l'immagine, il banner principale dove vediamo anche ulteriori Pokémon. Ma più che i Pokémon, ci tengo a farvi capire come si potranno affrontare queste 2v2. Infatti ci saranno delle 2v2 all'interno dei match. Il Venusaur contro questo toraccio qua. Che fanno appunto una 2v2. E ci sono delle varie pozioni come le baccafrutte. Tutti quelli che hanno giocato a Pokémon GO sanno di cosa sto parlando. Che servono a facilitare la vittoria in un determinato fight. Qua abbiamo altri frame, che ho preso adesso un attimo da internet al volo. Dove si possono vedere appunto degli spezioni di gameplay. Qua abbiamo un'altra spezione di gameplay un po' più grande. Dove si può appunto vedere come la partita si svolge 2v2. I punti sono abbastanza infiniti. E i colpi sono abbastanza la League of Legends. Infatti abbiamo il colpo primario, abbiamo le varie abilità che poi sono tutte da imparare. Ciascun teammate avrà delle abilità sicuramente diverse, così presuppongo almeno. In questo caso abbiamo la Thunderbolt, abbiamo l'Electro Web. Avendo Pikachu naturalmente. Poi abbiamo queste Pokéball. In teoria attraverso le Pokéball noi le possiamo lanciare. Andare a raptare un nemico. E di conseguenza vincere il fight, penso. Insomma, tutte cose che bisognerà vedere. Sono fatto questo video per presentarvi questo gioco. Questo è più o meno il menu, come funziona il tutto. E altre cose interessanti è vedere innanzitutto le icone che abbiamo qua sui personaggi. Abbiamo Bulbasaur. E penso che siano tutti i personaggi che noi possiamo avere all'interno del gioco. Ragazzi, naturalmente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, like, condivisione, commento, come al solito. Pompate di brutto questo video. Fra due giorni uscirà un altro video qua sul canale. Mi raccomando, escono tutti in Premiere, quindi presentatevi per la Premiere. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video.